Voglio i miei cinquantamila euro entro oggi pomeriggio alle cinque, chiaro? Più deciso. Voglio i miei cinquantamila entro oggi pomeriggio alle quindici, chiaro? Quindici, diciassette, no. Voglio entro le diciassette i miei cinquantamila euro, chiaro? La vedi la pistola? Voglio entro oggi pomeriggio alle cinque i miei cinquantamila euro, è allitterato. Voglio entro le cinquantamila, no, voglio cinquantamila euro entro oggi pomeriggio alle quindiciassette. Che ci fai qui? Questo è il bagno delle donne? Ha ragione, mi scusi. Allora, donate quello che vi pare perché continua a sopravvivere Pisa Violenta, ma donatelo. Produzioni dal basso. Grazie, scusi.